Ciao a tutti e ben tornati in questo nuovo fantastico iper mega iper video oggi faremo nuovi ma nuovi ma nuovi secret e in cui in cui in cui in cui oggi secret quindi ve l'ho detto già ma prima di tutto dovete iscrivervi al canale alzare la campanella e lasciare un bel like iniziamo eccoci qua allora il primo segreto che dobbiamo assolutamente fare sono qua vicino proprio perché il primo segreto è quello dei cioè non per farci capelli però alcune femmine che mi seguono magari le unghie però se noi appoggiamo qua il nostro letto tra 1, 2, 3 se saltiamo il tasto ok saltiamo molto normale però molto santellante vabbè questo segreto credevo che ancora facesse però vabbè è la mia macchina allora il prossimo segreto è allora andiamo allora il prossimo segreto sarà nel allora prendiamo una casa allora vediamo la 15 la 15 vabbè lo cerchiamo direttamente sulla 17 e proviamo forse non fa perché c'è letto come nessun tempo di attesa per il server privato io non so nel server privato vabbè allora prendiamo la casa questa è quella che dovevo prendere aspetta ah questa qua gratuita questa qua è tra le due premium questa qua però io sono premium allora Valerio allora questa casa voi dite ma è normale ma non è vero raga ma sono invisibili i segreti non ci sono infatti infatti è vero sono invisibili guardate noi andiamo nella ringhiera guardate vostre mamme vi dicono ovviamente di non arrampicarvi alla ringhiera ma guardate qua invece in questa casa di Brookhaven potete farci perché guardate cioè sembra che io sto volando guardate però se andiamo un pochetto più giù ovviamente si cade però ok questo segreto oddio perché mi ha detto che niente vabbè insomma ci vediamo dopo allora raga questi sono segreti in cui in cui erano un pochetto vecchiotti soprattutto di questo aggiornamento quindi e ci saranno anche quelli nuovi nel nuovo aggiornamento ma una cosa voi ovviamente c'è un segreto questo della barca tipo se noi le prendiamo tante e ovviamente no aspetta al contrario vabbè insomma se voi le guidate aspetta aspetta scusate 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 ok se noi lo possiamo guidare ovviamente qua possiamo avere un botto cioè ne possiamo avere tappissime cioè le possiamo mandare tutte là però una cosa avete visto che di solito nel summer camp avete visto quella bambola tipo horror chi non l'ha visto va nel video nuovo campeggio in Brookhaven lo vede però se noi andiamo sulle facce è gratuita questa faccia tipo c'è la faccia proprio di quella strega cattiva una strega che sto piacendo che è la bambola bambola horror tipo guardate mi sa che però non è questa qua non è allora guardate cioè meglio che non la guardo perché vabbè insomma allora andiamo se allora è andato già nella casa dei tipo ok vediamo se è finito il tempo tipo ok allora prendiamo questo qua allora allora questo è un hotel normale però di questo aggiornamento aspettate che c'era anche un'altra novità non c'era raga strano che non c'era quello del coso tipo horror strano tipo che non c'era tipo io sono andato ieri su Brooklyn a cercare tipo una casa mi è arrivata tipo tutta vecchia guardate è tipo questo guardate guardate è tutta vecchia cioè guardate è tutta vecchia come faccio io ad avere quella nuova come faccio io ad avere quella nuova un nuovo segreto cioè non mi dite che magari nella 4 fa quella nuova cioè non ci posso credere guardate anche nella 5 non ho capito il perché guardate non ho capito perché questo fa gli altri giocatori non ho proprio capito però allora se noi andiamo in un'altra casa cioè allora cerchiamo un'altra casa non so che cosa è successo raga non lo so perché questo è tutto dell'aggiornamento raga il quando l'attivazione del portale cioè allora raga mi dispiace ma io stavo facendo tipo una live però è andata un pochetto male quindi ho eliminato tutta ma tutta ma tutta ma tutta mi dispiace vabbè alla prossima volta allora la prossima volta possiamo aprire se volete un portale un video tanto lunghetto in premiere in premiere questo mi sa che non è in premiere non lo so però vi aspetto dopo perché sto aspettando il timer della casa allora raga sto cercando una cosa però ovviamente è troppa allora c'è tipo qua non so se lo vedete uno spaventapasse di questo qua fa un pochetto paura c'è anche un uccellino che tipo si ferma qua e poi voi prendete la pala e potete tipo coltivare allora mentre le trasporto tipo la casa 2 perché voglio vedere se succede ancora succede ancora non ho capito perché cerco in un'altra casa vado a vedere vabbè non ho capito perché magari a me non me lo fa perché magari non ho aperto tipo la tabella quella là vabbè uguale però se noi prendiamo un secondo il tablet scusate ultimo 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 secret guardiamo qua il tablet ma se noi muoviamo f tipo guardate è tipo tutto veloce tipo guardate è tipo se noi tipo vogliamo c e noi mettiamo questo qua poi mettiamo tipo onda non ho capito forse perché bisogna mettere tipo una cosa tipo oppure possiamo mettere tipo danza uno tipo mentre il tablet guardate cosa fa cosa fa non so se vi siete accorti vabbè allora spero tanto che questo video secret vi sia piaciuto quindi ci vediamo domani con un nuovo fantastico iper mega video ciao ciao